Amici di Youtube e di Instagram, buon pomeriggio a tutti quanti, ormai manca poco vigilia del derby, manca veramente pochissime ore, mancano pochissime ore, anzi anti vigilia del derby alla quarta giornata. Pensate voi, l'anno scorso cos'era più o meno, verso queste giornate qua, mi ricordo erano i primi di settembre, un derby giocato male, giocato malissimo, un derby d'andata in casa loro, un, mi ricordo poi avevo fatto video sfogo, mi ero incazzato nero, però ci sta perché dopo perdere un derby ci sta, perché io sono legatissimo ai derby, io quelli là li odio, ok, non li posso vedere. Per me il derby è veramente questione di vita o di morte, io preferisco, lo so, sono da questo lato qui provinciale, ma io preferisco tutta la vita vincere due derby a stagione, oppure anche quelli di Champions, tutto quanto, piuttosto che magari, ecco, piuttosto che magari vincere uno scudetto e perdere due derby, perché sarebbe una roba vergognosa. Perché sono legato a queste, magari hanno anche queste cagatine provinciali, però io sono legato veramente a distruggere, a distruggere i parassiti, i pupazzi di Milano, i barboni. Allora ragazzi, vabbè io la preview del derby l'ho già fatta praticamente quasi tutta la settimana che la faccio la preview del derby, però veramente non capisco, beh a parte che comunque per queste prime tre giornate abbiamo visto tranquillamente un Inter sul pezzo, un Inter sempre in partita, che sa, soprattutto che sa, innanzitutto, gestire tutte le situazioni della partita, senza farsi prendere da entusiasmi vari, mai reazioni di inerzia, ma tanta voglia di chiudere le partite e tanta voglia di rimanere concentrati sul campo, una caparabilità, una grinta nel chiudere le partite che non si vedeva l'anno scorso, che non si vedeva l'anno prima, un cinismo, perché io vedo un Inter più cinica quest'anno, poi sicuramente siamo alla terza giornata, il campionato praticamente non è ancora quasi iniziato, perché mancano ancora una migliaia di partite, però è un Inter, per quello che vedo io, molto più cinica, ma anche grazie al fatto che un grandissimo numero 9 come Tikus, Marcus Duram, stellare in nazionale, dove segna il suo primo gol con la maglia della Francia, ricordiamo anche un Arnautovic che fa doppietta con l'Austria in Austria-Svezia, mi sono visto anche poco prima il video uno contro uno di Dazon, dove è carichissimo, vuole spaccare questo derby, dalla panchina, Dumfries, altre due prestazioni veramente allucinanti con l'Olanda, definito anche da Van der Warte il miglior giocatore olandese in questo momento, e poi un grandissimo frattesi, che ne parleremo perché ormai ha spuntato il caso frattesi. Però, parlando di Duram, che comunque è bravo a gestire le palle sporche e soprattutto a fare più il mazzo per quanto riguarda la fase di interdizione dell'attacco, perché Duram fa il lavoro sporco, gioca di sponda e si arretra tanto, e questo fa sì che il nostro leader, il nostro capitano, il nostro bomber, il nostro goleador Lautaro, ovviamente, è molto più vicino alla porta e questo lo aiuta anche a essere più lucido sotto porta e a segnare di più. E quando io l'ho sempre detto, che ho detto quest'anno Lautaro si avvicinerà ai 40 gol, in questo momento, tatticamente, è più che possibile, è molto molto più che possibile. E io sono convinto che Lautaro quest'anno, se i tristoni rompivano il cazzo e dicevano, ah, il problema è attacco, di qua non c'è gente che fa gol. L'unico problema vostro dell'attacco, che siete coglioni che non capite un cazzo, è che se Lautaro l'anno scorso ha fatto 28 gol, quest'anno magari ne potrà fare anche 34, 35. E se questo è il problema, allora siamo messi bene, perché è un bellissimo problema questo. Quindi, tristoni che parlano, 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 quindi, detto questo, per queste prime tre giornate il campo dice, il campo ormai la sentenza l'ha sparata, l'Inter secondo me è la più forte. Cioè, secondo me noi siamo i più forti. Come Rosa Lunga, come Alternative, come Profondità, come Gol, cioè siamo i più forti. Anche lì, abbiamo affrontato la Fiorentina, non era un vero test, ok, però neanche il Milan, allora, ha affrontato la Roma, che non era un vero test, perché la Roma non è scesa in campo venerdì l'altro. Non è scesa in campo. Cioè, ha fatto una partita veramente allucinante da Serie D. Roba che se ci mettevi lo Spezia o il Sestri Levante, eh, sicuramente non avrebbe fatto quella figura di merda, almeno un minimo di calcio l'avrebbe anche presentato, secondo me, all'Olimpico. Quindi, se il nostro, secondo loro, non era un vero test, cosa assolutamente falsa, perché la Fiorentina, tralasciando la stanchezza, comunque è una squadra organizzatissima, con un grandissimo allenatore che ha fatto la finale di conference. Quindi, già, iniziamo a mettere i puntini sulle i, perché la vittoria con la Fiorentina è stata una vittoria esemplare e un grandissimo test superato. Invece, loro, non hanno ancora fatto nessun test, perché la partita con la Roma è stata una partita scandalosa, vergognosa, ma, in mondo visione, una figura di merda, uno spot bruttissimo per il calcio italiano. Perché il Milan, comunque, non l'ha neanche dominata, alla fine, perché ha fatto il minimo indispensabile per vincere la partita contro una Roma che non è... Cioè, che sembrava la squadra, sembrava veramente il Sestri Levante, sembrava, ma il Sestri Levante, secondo me, è pure più forte. Quindi, vabbè, detto questo, ripeto, il Milan quest'anno lo sto vedendo meglio, dall'anno scorso rimangono sempre una squadra di miracolati, assolutamente. Però quest'anno vedo una squadra più... non con più mordente, però gioca meglio. Vedo più qualità, anche grazie al mercato, sicuramente, Pulisic, Loftus-Cheek, però anche lì, Loftus-Cheek, è da vedere, perché... Sta facendo bene, però attenzione, perché poi... Il mercato va visto anche a lungo andare, e va visto anche in Champions. Reinders, per adesso il Milan potrebbe aver azzeccato la campagna acquisti. Va vista, ripeto, a lungo andare, però è un Milan che comunque è visto meglio rispetto all'anno scorso, sicuramente, ma anche rispetto all'anno prima, all'anno prima ancora. È un Milan, secondo me, che gioca meglio. Molto più corale, invece, l'anno scorso era Pala-Leao e via andare, all'anno prima pure, cioè Pala-Leao, andare via. Parlatevi mai gianne, gol di Leao, cioè quello era il Milan, se parliamoci chiaro. A volte, quando si svegliava, una galopata di Tevernandez, palla dentro, gol girù, cioè... Non era un Milan... Era un Milan individuale, c'è poco da fare. Cioè, a prescindere dalle cagate che dice Saki, che dice che l'Inter è una squadra individuale, invece il Milan è una squadra che fa il grande calcio. Sì, sì, grandissimo calcio di sto cazzo. Comunque... Che quest'anno gioca bene il Milan, lo riconosco anch'io, però... Dire che l'Inter gioca in un gioco individuale, cioè... Veramente è imbarazzante, quando l'Inter è la migliore in questo momento. Però anche lì, per adesso l'Inter è la più forte, però... Non questo non vuol dire che l'Inter deve essere la favorita a vincere lo scudetto. Cioè, la favorita? Deve essere l'obbligata a vincere... Perché l'Inter non è obbligata a vincere lo scudetto. Certo, deve vincere, perché dobbiamo vincere, perché quest'anno se non lo vinciamo mi incazzo. Poi, ripeto, guarderemo la stagione, ma se non vinciamo lo scudetto quest'anno mi incazzo veramente. Però, c'è da dire anche che... Non è che siamo quella obbligata a vincerlo. Punto. Perché come la narrazione sta nel girone delle merde del Milan, che secondo loro ha... Eh, un girone complicato di qua... Perché se il Milan passa... Passa a Miracolo Pioli, il Piolismo, Grande Milan. Se invece non dovesse passare, sappiamo già i titoloni quali saranno. Eh, no. Diavolo a testa alta di qua, destra e sinistra, cazzi e massi. Sarà sicuramente così il titolo. Perché? Perché... Hanno una narrazione veramente allucinante. Cioè, il girone del Milan di Champions, è vero, sarà pure difficile. Però... Non è così tanto lontano dalla loro portata alla fine. Parliamoci chiaro, dai. Newcastle... Volusia non ha neanche un'individualità forte. L'unico è il PSG. Ma il Milan secondo me può passare il girone. Secondo me... Però loro chiaramente no. Hanno il culo... Hanno praticamente... È un win-win, diciamo. Hanno il culo parato sempre. Perché se lo passano... È no... È... È grande Milan. Se no invece non lo passano, testa alta. Va bene, lo stesso. È una vergogna. Comunque, è veramente una vergogna. Però ecco, non è che l'Inter, se è la più forte, allora è obbligata a vincere. Perché il Milan comunque... Quest'anno si è rinforzato. La Juve ha un... Anzi, i gobbi di merda hanno una partita a settimana tra dopati, condannati, processi, il cazzo vario. Ludopatici che si ballano 50 milioni di euro. Quindi... No, quello. Quindi diciamo che comunque la Juve con una partita a settimana e con la rosa che ha non può non essere quella obbligata a vincere. È obbligata sì a vincere. Il Napoli comunque è una squadra comunque forte. Va bene Garzia che magari per me non è all'altezza. Va bene che... Ma ha un grande buco in difesa, comunque rimane quella con l'attacco migliore del... Secondo me è quella con l'attacco migliore del campionato. E detto questo, niente... L'attacco migliore è perché comunque ha più tecnica, secondo me. Non peraltro perché l'autore è tre volte così, ma in questo lo sappiamo. L'attaccante più forte del campionato è il 10 più forte d'Europa. Però è un fatto di tecnica. Comunque parliamo un attimo del caso Frattesi, no? Perché anche lì mi sono veramente... Non ho capito tanto questa idea di tanti tifosi che dicono Ah no, però Frattesi deve partiturare al derby. Allora, innanzitutto... Fiducia nel mister, perché comunque i nuovi innesti si sono sempre trattati degnamente e... Si sono sempre inseriti per grado, non subito. Quindi Pavard, secondo me, con il Sociedad già giocherà. Idem, secondo me, Frattesi potrà tranquillamente far riposare Mkhitaryan, non c'è problema. E un giocatore che abbiamo pagato 30... Se mettiamo dentro anche mulattieri nell'operazione arriviamo quasi a 40 milioni. Quindi se tu paghi un giocatore 40 milioni sai già che comunque non è che viene a fare la panchina. Sai già l'importanza e le qualità del giocatore. E che sia forte e forte, lo sapevamo già. Frattesi ha molti più gol nelle corde di Barella, molti più inserimenti nelle corde di Barella, molto... ha una grandissima tecnica anche, già un centrocampo che comunque non è povero di tecnica. E poi potremmo aggiungerla assolutamente anche con Davidino Frattesi. Sappiamo già che il giocatore è. Poi la doppietta con l'Ucraina sicuramente l'ha testimoniato. Però non è che adesso questo fa una doppietta e ora deve giocare titolare al derby. Allora, comunque... Hai... Beh, Ciala, vabbè, non si tocca assolutamente. Mkhitaryan comunque ha una sicurezza in termini di qualità, in termini di possesso palle, in termini di smistate. E soprattutto di cambi di gioco. È un giocatore che dà freschezza alla manovra e non puoi mai levarlo. Perché Mkhitaryan è imprescindibile. È anche lì grandissima mossa di Simonin Zaghi. Perché con i fortuni di Brozovic l'ha inserito al meglio e si è preso praticamente il centrocampo dell'Inter. Quindi Mkhitaryan non ti puoi permettere mai di levarlo. Alcuni dicono anche Barella magari potrebbe stare in panchina dal primo minuto per far partire Frattesi. Questa è l'idea di tanti tifosi. Cioè nel senso, leggo anche su Twitter, su Instagram. Però secondo me ci vorrebbe un po' un attimo di tempo. Perché comunque, anche per questioni di spogliatoio, di gerarchia, Niccolò Barella non può stare fuori al derby. Parliamoci chiaro. Non può stare fuori. È vero, magari sarà partito anche male. Sicuramente questo nessuno è partito un po' così così in queste prime tre partite. Però non si può tenere fuori uno come Niccolò al derby. Quindi. Perché è un'altra sicurezza che ha i Barella. È uno che comunque nei derby tira fuori il mordente. E poi è utilissimo anche nei legami e soprattutto nell'intesa con il Toro e con Mkhitaryan. Dove abbiamo visto anche l'anno scorso soprattutto un Mkhitaryan. Uno dei migliori dell'anno scorso secondo me. Ma anche senza l'ombra di dubbio. Altro inserimento di Acerbi è quello fatto l'anno scorso da Inzaghi. Cioè nel senso Acerbi sposta, scalza lì al posto a De Vrij. E gradualmente poi entra nelle gerarchie. Il derby dell'anno scorso, il primo derby con De Vrij che si fece uccidare da Giroud. Quello ancora dell'anno prima. L'anno dello squetto di questi lebrosi schifosi qua. Quando vinsero 2-1 con una cagata che va bene andando. Ma comunque la cagata la fa De Vrij lì sul gol di Giroud. Quindi c'è anche da dire. Cioè secondo me è più una sicurezza mettere a Acerbi domani che De Vrij. Questo l'ho sempre detto però ripeto. La formazione la fa il mister. Noi ci fidiamo di Inzaghi perché bisogna stare tutti compatti quest'anno. Perché bisogna tifare di più e parlare di meno. Perché quest'anno potrebbe essere veramente l'anno buono. Perché abbiamo tutte le carte in regola e bisogna crederci e spingere e vincere questo cazzo di derby contro dei parassiti. Quindi forza Inter, forza ragazzi. Facciamoli ritornare con i pedi per terra. Perché non sono nessuno. E noi siamo l'FC internazionale Milano 1908. La squadra del Bicciolo e la squadra di Milano. Un bacione a tutti i ragazzuoli. Sempre forza Inter. Like al video. Iscrizione al canale. Iscrizione anche a Instagram. Like a tutti i miei video su Instagram. Visto che non spammo mai Instagram. Però comunque ci tengo anche perché pubblico video anche lì. Like a tutti ragazzi. Anche i post in community. Gli shorts. Tutto quanto. Sempre forza Inter. Distruggiamo questi parassiti. Amala sempre. Un bacione a tutti. E ci vediamo domani. Con il pregara e la vigilia. Ciao ragazzi.